guardando l'evoluzione tridimensionale di queste mappe di google piuttosto che di microsoft la prima cosa che può venirci in mente oltre a voler scaricare un'immagine dall'alto di queste può essere voler scaricare il terreno tridimensionale con di cui sono composte per poterlo fare ci sono diversi mezzi più famoso è quello proprio messo a disposizione da google con una sketch up però il restituirebbe una porzione piccolina di terreno e bisognerebbe fare diversi tagli e cuci tra le varie parti per ottenere un'area un po più grande di quella possibile quella che vedremo oggi invece la soluzione con grasshopper vedremo con questa sarà possibile ottenere un terreno con un raggio di 1500 metri per chi non lo avesse già installato sul proprio computer vi ricordo che per installarlo altro non si deve fare che andare sul sito di grasshopper3d.com che è la pagina ufficiale dove è contenuto anche un forum con una community molto attiva e scaricare alla pagina get l'ultima versione per rinoceros 5 inserire la propria mail andare avanti ed è possibile fare il download una volta installato e accettate le condizioni di utilizzo di questo software sarà possibile richiamarlo andando su rinoceros e scrivendo il comando grasshopper premiamo invio e compare questa qui che è la finestra appunto dove è possibile editare i file gh tipici di grasshopper prima ancora di iniziare però andiamo a vedere come poter installare wombat all'interno di grasshopper che è una piccola plugin come ce ne sono tantissime che ci permetterà di fare qualcosa che non è possibile di default con grasshopper nudo e crudo per farlo andiamo alla pagina ufficiale di food for rino dove è possibile trovare un sacco di plugin pronte all'utilizzo molte delle quali sono anche gratuite è necessario loggarsi a questo punto una volta fatto scriviamo wombat all'interno del motore di ricerca eccolo qui come noterete un po tutti tutte le plugin tutto ciò che gira intorno al mondo di rinoceros e anche poi di grasshopper prende il nome di animali in questo caso il wombat andiamo a fare il download scarichiamo l'ultima versione agosto 19 2017 perfetto la scarichiamo la mettiamo per esempio sul desktop è un semplice gha questo gha wombat appunto gha dovrà essere inserito all'interno di una cartella particolare di grasshopper per trovarla questa cartella bisogna andare su grasshopper su file special folder component folder ci clicchiamo una volta aperta andiamo a inserire qui dentro il file gh semplicemente spostandolo non lo faccio perché giustamente già ce l'ho dovremmo a questo punto chiudere e riaprire grasshopper e al suo riavvio dovrebbe comparire questo qui questa scheda di default voi però vedete i testi in questa maniera qua quindi potrebbe essere scritto per intero wombat o come nel mio caso in cui ho uno schermo abbastanza piccolo è un numero elevato di plugin solo in la w per vedere comunque le concine basta premere col tasto destro su su queste tab e andare su display as icons questo punto vedremo appunto le icone in questa occasione non potremo purtroppo vedere tutti i comportamenti su grasshopper per per imparare ad utilizzarlo per questo però vi rimando e vi segnalo un sito molto interessante si chiama digital toolbox che raccoglie una serie infinita di di tutti video tutorial sull'utilizzo del programma sono divisi qui nella scheda grasshopper in base al livello di complessità e vi invito andare a dare un'occhiata specialmente a chi volesse approfondire questo argomento detto ciò vediamo come è possibile far partire appunto il file di grasshopper per poter scaricare questi terreni da google earth o da google map che dirsi voglia per farlo torniamo su sul desktop andiamo a vedere io c'ho il file google to terrain che metterò appunto a disposizione e in un link qui sotto e per i ragazzi del corso su classroom per farlo partire bisogna tenere ovviamente aperto grasshopper insieme al rinoceros e fare un semplice clicca e trascina all'interno della finestra di grasshopper qualche istante e partirà se è andato tutto a buon fine non ci chiederà nulla viceversa avremmo qualche segnale che qualcosa non è andato non è andato non c'è bisogno di di conoscere esattamente cosa c'è in dentro questo albero a noi interessa quello che c'è da questa parte da qui è possibile modificare il nostro albero per ottenere il terreno per albero si intende sempre il file di grasshopper in quanto la sua struttura appunto la ricorda quella di un albero dalle radici fino alla punta della chioma affianca ma grasso per la finestra di rinoceros in questa maniera così e avviciniamoci a vedere effettivamente cosa c'è quali quali sono i comandi a disposizione la prima cosa da fare dall'alto verso il basso e cercare il punto per scaricare questo terreno in 3d qui sulla sinistra vediamo già che l'operazione è andata per un certo senso a buon fine per farlo basta fare una normalissima ricerca cliccando un paio di volte su quest'area verde comparirà una casella di testo dove è possibile fare una ricerca nel mondo per esempio posso cercare roma piuttosto che new york in questo caso ho messo direttamente una parte di roma potevo fare per esempio piazza del popolo virgola roma questa stringa verrà interpretata e cercata da google e che restituirà in automatico un terreno se non ce la fa a restituire di default un terreno vuol dire che bisognerà fare da subito un'operazione molto semplice anzitutto ce ne accorgiamo che bake me qui sotto da grigio diventa arancione segno che non è andato tutto a buon fine per farlo funzionare semplicemente dovrò fare una selezione con il tasto sinistro di tutti questi oggetti e premere un paio di volte control più e la prima volta disattiverò tutto la seconda volta riattiverò tutto e purtroppo è un'operazione che con questo con questo albero è necessaria però una volta fatto dopo qualche istante ricompare il terreno nella parte sottostante compare quella che è l'immagine estrapolata da google earth un simile a quella che che vedevamo l'altra volta nello scorso tutorial estratta da sasplanet che rivedremo in azione anche questa volta perché l'immagine come avevamo visto estratta da google purtroppo non è in un ortofoto ma è una fotografia aerea scattata in asso in prospettiva ovviamente l'ortofoto prevede una logica diversa di proiezione il secondo comando che abbiamo è quello riferito all'area quando abbiamo fatto questa ricerca di piazza del popolo effettivamente lui ha puntato il punto centrale su piazza del popolo cioè per capirci andiamo a fare la stessa ricerca su google ecco qui facciamo incolliamo piazza del popolo virgola roma e lui ha puntato esattamente in questa posizione il suo il suo centro e con un raggio di 100 ha estratto quest'area di terreno ovviamente potrei avere molto più da estrarre potrei per esempio scrivere 500 aspettare qualche istante vedere cosa succede potrebbe andare a buon fine oppure sarà necessario ancora disattivare e riattivare come abbiamo visto prima con il controle il tutti i comandi che abbiamo qui su grasshopper nella seconda fase però vedremo il risultato allora nella parte di sotto come potete vedere compare qualcosa questo qualcosa però è a bassa risoluzione è comunque soggetto ai problemi che avevamo detto prima in questa parte qua come potete vedere credo ci sia il fiume il letto del tevere infatti ecco dal basso vediamo che corrisponde per ottenere il questa immagine bidimensionale avevamo visto l'altra volta potremmo scaricare con sus planet ma per ottenere esattamente le coordinate di questo rettangolo io scusate di questo quadrato che avevamo qui estratto in 3d la maniera più semplice farla fare appunto a sus planet che abbiamo già imparato a conoscere la scorsa volta sarà necessario inserire quindi in questa stringa di di testo quella che è quello che è il percorso il path del programma sus planet io come avete visto l'altra volta l'ho scaricato l'ho messo sul desktop quindi per me il questa stringa esattamente corrisponde a questa cioè ci due punti slash user e così via io semplicemente la copio e la vado a incollare si è spostato tutto e la vado incollare qui dentro con un control v accetto e lui una volta premuto su save to sus farà una magia andrà da selezionare lo stesso quadrato che avevamo che avevamo qui su grasshopper e su rinoceros a salvare all'interno di sus planet fate fate attenzione a tenere chiuso sus planet quando facciamo questo salvataggio se tutto è andato a buon fine adesso io ho una parte selezionata corrispondente alla stessa parte che avevo di là allontano un po lo zoom e vediamo c'è un quadrato da questa parte concentro in piazza del popolo a roma quest'area è esattamente la stessa area che avevamo su grasshopper e su rinoceros ora per scaricarla possiamo fare la stessa cosa che facevamo l'altra volta non andremo però a fare una nuova selezione con rettangular selection ma andremo a fare utilizzare la last selection ci clicchiamo qualche istante per l'attesa per scaricarlo scegliamo il livello di zoom che più vogliamo per esempio ci piace il 20 ok il 20 ci restituisce un'immagine di 4500 pixel circa per 4500 andiamo su stitch avevamo detto alla dimensione 20 l'andiamo a salvare per esempio sul desktop con il nome solito mappa scegliamo il servizio che preferiamo poteva essere anche google ma io l'avete capito ormai preferisco questo di bing lo zoom l'abbiamo impostato a 20 diamo il via aspettiamo qualche istante sul desktop dovrebbe essere comparso eccolo qui il file con l'estensione che voleva che avevamo dato prima e con il livello di zoom richiesto tornando lasciamolo un attimo da parte tornando su grasshopper ora quello che è su grasshopper fin quando ha questa connotazione rossa non è selezionabile non è un vero terreno è qualcosa che rimane nella memoria di del programma ma che non è possibile manipolare proprio non è possibile metterci le mani fino a quando non lo si cucina è stato utilizzato questo termine scherzoso del bake per per farlo per cucinarlo ci resta quindi che selezionare su grasshopper questo questo rettangolino scritto bake me cliccare destro sul vuoto e andare su bake cellovetto appunto questo qua genererà una surface all'interno di rinoceros che sarà quindi selezionabile modificabile con gli strumenti di rinoceros appunto a questo punto possiamo quindi anche chiudere grasshopper vediamo scomparire anche la sovrapposizione dell'immagine vediamo che rimane la superficie e rimane un rettangolo qua sotto questo rettangolo qua sotto ve l'ho fatto inserire appunto per avere un riferimento su cui appoggiare l'immagine che andiamo a mettere adesso andiamo nascondiamo con hide scrivendo hide nascondiamo la surface in alto e prendiamo la nostra mappa e la trasciniamo all'interno di grasshopper questo ci dirà che ci faccio questa immagine falla diventare una picture frame ok ci mettiamo dall'alto zoomiamo fino a riguardare tutto ecco qua e dobbiamo con un paio di click selezionare attenzione ad avere anche gli osnap attivi per esempio all'end selezionare due punti del rettangolo in modo da appoggiarci in modo preciso cliccando destro sulla lampadina è possibile mostrare di nuovo il contenuto nascosto precedentemente ed ecco in un attimo che abbiamo tutto quanto abbiamo questo qui il terreno e l'immagine che è possibile appiccicarci sopra ora la prima le due cose appunto che mi vengono in mente sono quelle di ottenere delle curve di livello a partire da da questa geometria appena estratta e se possibile attaccare questa immagine esattamente sopra quest'altra surface e non in due in due surface diverse e adesso vediamo come fare andiamo per prima cosa a vedere di che dimensioni stiamo parlando avevamo scelto di estrarre un raggio di 500 metri ricordo prima andiamo a vedere quindi avremo qualcosa di mille metri adesso ovviamente la riga non è perfettamente orizzontale per mille metri cioè 500 metri di raggio per un'altezza effettiva magari lo scopriamo subito facciamo che il punto più alto lo chiamiamo bonding box così ecco qua abbiamo costruito diciamo un parallelepipedo grande come il nostro oggetto andiamo a scoprire che il nostro oggetto quindi è alto 53 metri virgola 5 quindi abbiamo 50 metri di slivello questa cosa mi interessa perché se io con una lineetta vado a disegnare un edge di questo di questo parallelepipedo poi lo posso cancellare e utilizzare questa lineetta per segmentare verticalmente o meglio a sezioni orizzontali crescenti diciamo così questo questo terreno per ottenere le curve di livello adesso così solo per esempio ma non è una regola andrò a dividere con il comando contour posto in questa posizione qui ci clicco col tasto sinistro andiamo a suddividerla appunto questa surface tasto destro per questa lunghezza ogni 5 metri ecco qua abbiamo velocemente delle curve di livello quindi se io andassi a nascondere il mio terreno vedrei queste curve di livello che lo componevano possono essere 5 metri ma possono essere di più o di meno a seconda di quello che preferisco con 5 metri ovviamente non ho una segmentazione altissima ma ho un'idea di quello che sta succedendo per appiccicare invece un'immagine a questo quadrato qua o meglio per proiettare questa immagine esattamente sopra la mia surface dovrò creare un materiale è un materiale purtroppo che è visibile solo nel mondo di rinoceros quindi laddove io pretenderò di fare un rendering per assurdo e portare tutto questo da un'altra parte a meno che non voglia lavorare in rinoceros dovrò compiere un'operazione simile ma su un altro software allora la prima cosa seleziono l'oggetto vado qui sulla casella material che questo tubetto di vernice gli assegno un materiale per oggetto quindi a solo a questo oggetto e posso prendere anche quello del picture frame andiamo a vedere cosa succede apparentemente non è cambiato nulla perché sto in visualizzazione shaded cambio la visualizzazione cliccando su questa su questa freccetta in basso a fianco a perspective e vado su render ed voilà sembra funzionare ma non è così perché la proiezione è ruotata rispetto a quella che volevo io vediamo sotto in basso il tevere passa da questa parte qui dobbiamo girarci di 90 gradi allora dobbiamo andare a inserire una nuova proiezione riseleziono questo oggetto sempre nella tab delle proprieties andiamo su texture mapping da qui scegliamo di applicare una mappatura planare clicchiamo appunto sull'iconcina e sempre tenendo attivi i solidi osnap andiamo a cliccare sul primo vertice e sul vertice opposto di questo quadrato cliccando lui dopo un attimo d'attesa non avrà fatto nient'altro che rigirare la texture riapplicandola secondo la mappatura corretta ecco qua col tasto destro ovviamente ho accettato questa questa condizione se torno in shaded non la posso più vedere ma se adesso la sposto di qua la vado a renderizzare ecco che la riottengo di nuovo questa immagine per vederla nella viewport quindi sarà necessario rimanere sul render ed un'altra cosa che potrebbe essere molto interessante e magari poter riportare all'altezza del nuovo terreno quelle che sono le le piante a terra degli edifici che abbiamo ottenuto dal dvg di roma per esempio prendo alcuni di questi qui veramente solo ad esempio per far capire quale potrebbe essere l'operazione innanzitutto dall'alto effettuerò un allineamento quindi rototraslerò e far combaciare gli edifici disegnati su su auto cad con gli edifici nella mappa una volta fatto ciò ne vado per esempio in prospettiva e li porto molto in alto vorrò proiettarli al di sopra di questa per farlo seleziono con eccolo qui il project course che troviamo qui nella toolbar esterna mi fa selezionare allarghiamo un po meglio qui così vediamo meglio i comandi mi fa selezionare le curve da voler proiettare e la superficie su cui proiettarle col tasto destro me le ritroverò esattamente lì dove dove dovrebbero qual è il primo problema il primo problema è che essendo un terreno con una definizione non altissima diciamo così questa è soggetta ad avvallamenti strani che gli edifici spesso non hanno e come possiamo quindi per fare per risolvere questo problema possiamo quindi magari pensare di tornare sul grasso per vedere di fare qualcosa da lì perché l'idea che viene a me è fare una proiezione rigida di questi di questi oggetti sopra la superficie del pavimento del terreno scusate allora per farlo innanzitutto cancelliamo questi che non non sono gli edifici corretti le piante degli edifici corretti e facciamo partire di nuovo grasso per ecco che lo ritroviamo dove l'avevamo lasciato mettiamoci in una condizione in cui ops possiamo vedere tutto andiamo a vedere nella parte bassa dell'albero ci sono c'è un cerchietto verde con due rettangoli arancioni sono arancioni proprio perché non sono essenzialmente dei contenitori che però non hanno nulla all'interno e quindi sono arancioni come possiamo vedere pure da qua il primo ci chiederà di inserire con set multiple curves il contenuto delle curve appunto che le ho appena selezionate e vado su curves il secondo invece ci chiederà di selezionare e di impostare chi è il terreno quindi lo selezioniamo destro sul rettangolino terrain e set multiple geometry in questo caso non ha senso set one geometry ecco qui ne ho preparato in basso un'altra volta un altro bake me che mi restituirà questi rettangolini le curve di questi rettangolini proiettati in modo rigido sopra questo terreno lo selezioniamo e su bake come prima vado a chiudere grasshopper e questi rettangolini saranno posizionati esattamente dove volevamo noi ma non sono non sono diventati spalmati sopra la superficie in questa maniera a me viene in mente che posso fare questa cosa qui posso effettuare un'estrusione con l'extrude classico selezionare le curve che avevo prima e un'ultima cosa vi segnalo se qualcuno volesse approfondire o anche solo perché magari si sente spaisato da questo nuovo software rinoceros segnalo le lezioni gratuite su youtube di filippo sicuranza professore dell'università di camerino che voi probabilmente già conoscete e che vi linkerò al di sotto di questo di questo filmato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti